Buongiorno, ricordate la storia della cicala e della formica? La prima gaudente, la seconda operosa. Esattamente come gli italiani, operose formiche, guardate questo cartello. Nel 2018, 1230 miliardi di euro di risparmi accumulati. Come si proteggono i risparmi da eventuali rischi? Parleremo anche di matrimoni, visto che il matrimonio rischia di essere il giorno più costoso e cercheremo di parlare di multe sempre più salate. Prima sigla. Allora, il cuore del risparmio delle famiglie rimane parcheggiato sui conti correnti. Vediamo questa grafica. Un terzo della ricchezza degli italiani rimane immobilizzata sui conti. Solo il 33% dei risparmiatori sceglie di investire. Siamo noi a lavorare per i soldi con grandi sacrifici. Questo è quello che esce dai dati, ma non i soldi a lavorare per noi. Oggi ne parliamo con Monica Cirillo. Bentornata con Massimo Belpignano, avvocato, esperto di tematiche finanziarie. Collegato da Milano c'è Antonio Triscioni, collega del Sole 24 Ore. Bentornata. Che rischi si corrono, Massimo, a tenere i soldi sul conto corrente? Alcuni rischi, li elenchiamo molto velocemente. Il primo ci dà una grande certezza. Sono lì, so che ci sono, quando voglio li posso prendere. E questo, diciamo, in un periodo in cui i spagnoli italiani hanno sofferto un po', ci dà una certa sicurezza. Ecco perché molti forse predirigono questo tipo di investimento, di rimparcheggio del denaro. Ci sono altri due aspetti per considerare. Il primo, il rischio intermediario, quello che qualcuno chiama rischio bail-in, cioè la banca potrebbe saltare. Ne abbiamo viste tante in questo periodo. Però io so di avere una garanzia che fino a 100.000 euro il fondo interbancario mi rimborsa. Su questo però dobbiamo spiegare alcune cose. 100.000 euro non significa che me li rimborsino tutti. Devo rispettare alcune regole. Se ho, ad esempio, 120.000 euro sulla stessa banca, io perdo i 20.000 euro di differenza. Se ho invece due conti da 60.000 euro, uno su una banca, uno sull'altra, ma l'auguratamente saltano entrambe le banche, io recupero per intero i miei 120.000 euro, perché il limite è per banca. E questa è una regola da trascurare. Terzo discorso, l'inflazione. L'inflazione, prendiamo sempre i famosi 100.000 euro ipotetici di prima, oggi è quasi all'1%, allo 0,94%. Quindi, se tengo quei soldi parcheggiati, perderò quasi 1.000 euro a fine anno. Più devo aggiungerci i costi di gestione del conto. Secondo Banca d'Italia, un conto corrente costa all'incirca 77 euro. E poi un'altra cosa, ho guadagnato su quei 100.000 euro, bene, vado a pagarci le tasse, ritenuta del 26%. Ecco perché non è sempre un investimento conveniente. Ci ha dato una fotografia molto chiara il nostro melpignano. Criscione, perché allora i nostri conti correnti non fruttano più nulla? Qual è la tua analisi? Il conto corrente, diciamo, non è uno strumento per far fruttare i soldi. Il conto corrente è uno strumento per tenerli parcheggiati oppure per utilizzarli. Non è uno strumento di risparmio, ma è uno strumento di gestione della liquidità corrente. Quindi, voglio dire, alla fine bisogna sempre, quando si parla di soldi, per farli lavorare per noi, capire dove vanno messi perché poi lavorino per noi. Se li mettiamo sul conto corrente vuol dire che abbiamo bisogno di gestirli nell'immediato, perché poi ci sono altre forme, anche di liquidità, che possono essere utilizzate, diverse dal conto corrente e che magari fruttano un poco di più del conto corrente. Bisogna, quando si tratta di denaro, pensare, questo strumento che sto utilizzando, a che cosa serve, a dove mi porta. Ecco, il conto corrente non porta ad un incremento del patrimonio, ma solo ad una gestione nell'immediato. Ci sono i costi dei conti correnti, ne parlava prima il nostro Mel Pignano, ma poi ci sono gli scandali, gli scandali delle banche venete, le truffe dei diamanti, per citare due episodi recenti. Forse i risparmiatori, un po' di ragione, Monica Cirillo, ce l'hanno a non affidare i loro risparmi alle banche. Più di una ragione, io ti dirò che c'è un filo rosso che parte dallo scandalo Parnat, Ciro, De Julema, Ribonda Argentini, le banche venete, le quattro banche, altre società. Per cui i risparmiatori, nel corso del tempo, hanno imparato a non fidarsi delle banche, perché investimenti dati per sicuri sono stati invece totalmente persi. Si pensa che nell'ambito finanziario i risparmiatori, il piccolo risparmiatore, cioè noi, veniamo definiti parco buoi, cioè animali da macello. Allora, non c'è una fiducia nei confronti di chi dovrebbe investire il nostro denaro. Questo, qual è l'effetto? Soldi bloccati sui conti correnti. Altre che, se possibile, ritengono addirittura il famoso sotto il materasso. Vedremo tra poco quali sono le alternative al cosiddetto parcheggio dei risparmi. Intanto, se volete segnalarci delle vostre esperienze di investimento o segnalarci storie, questi sono i numeri per entrare in contatto con noi. Il nostro canale WhatsApp 345 3131994, c'è la mail mimandarai3chiocciolarai.it, c'è la nostra pagina Facebook dove potete interagire con la redazione di Mimandarai3, segnalarci delle storie, entrare in contatto con noi. Vediamo quali sono le principali alternative al parcheggio dei risparmi sul conto corrente. I conti di deposito, innanzitutto le obbligazioni, per esempio i titoli di Stato, BOT, BTP, CCT, le azioni, i buoni fruttiferi, i fondi di investimento, le polizze assicurative. Partiamo dai conti deposito. Criscione, li possiamo considerare una sorta di salvadanaio virtuale? Il conto di deposito è un altro di quegli elementi per gestire in un periodo medio-breve la liquidità, cioè nel senso che rendono un pochino, non rendono delle cifre esagerate, ma possono servire per la liquidità. Per esempio, il classico esempio potrebbe essere quello lì, uno vende la casa, riceve una liquidità e non sa come usarla per un certo periodo, sta decidendo cosa fare, se comprare un'altra casa, pagare le rette per l'università e i figli, fare un'assicurazione, eccetera. Il conto di deposito è uno strumento efficiente per quel tipo di parcheggio, diciamo così, perché rende un pochino, ma come dicevamo prima, con l'inflazione e con il resto dei costi non è che renda tantissimo, quindi non è da considerare un vero e proprio investimento. E' un altro mezzo di gestione della liquidità. Mentre invece quello che conta per tutti gli investimenti, voi avete fatto una serie, un elenco di possibili investimenti, è che una regola che vale in finanza è che tutte le uova non vanno messe nello stesso paniere. Quindi imparare in qualche modo a diversificare e a tenere solamente una quota di liquidità, perché chiaramente se si... La diversificazione, lo dicono tutti quelli che consigliano investimenti. Mel Pignano, le azioni sono sempre forse uno degli strumenti più rischiosi. Ci spieghi come funziona? Ma guardi, questa è una fake news, perché poi in realtà venivano ricordati prima alcuni dei più grandi scandali finanziari, riguardavano le obbligazioni, Cirio, Parma, l'Argentina, le obbligazioni strutturate. Provo a dare un'idea della differenza tra questi prodotti. Questa per esempio vede una società, quando io compro un'azione, che cosa faccio? Compro un pezzo di questa società, quindi divento proprietario di questa società. Nella pratica come funziona? La società funziona, va bene, questo anno è stato profigo, quindi la società si allarga, alla fine di questo anno la società comincerà a pagarmi dei dividendi. Sono i guadagni sul guadagno della società, per cui la società ha guadagnato e un pezzettino di questo guadagno verrà a me, in relazione ovviamente al numero di azioni che avrò. Più azioni avrò, più guadagnerò. Certo, se la società va male, ci rimetto di tasca mia. Le obbligazioni invece, che sono queste qui, sono considerate storicamente il prodotto più sicuro, lì ne abbiamo citati alcuni, sono i titoli di Stato, ma ci saranno anche le corporate, argentino, Parma, quelle private. Con l'obbligazione il ragionamento è diverso, sono io che rendo ricco la società perché gli presto i miei soldi e quindi la società, ma anche lo Stato per pagarci i servizi ci chiede dei soldi. Poi cosa fanno? Ci dicono, tieni i fermi di da me per un paio d'anni e io ti pagherò delle cedole e quindi vede ogni sei mesi io diventerò più ricco, i miei soldi stanno sempre qui, ma dopo sei mesi prenderò la prima cedola, dopo sei mesi la seconda e così via. Alla fine del contratto, se tutto va bene, io mi riprenderò i miei soldi. Questo è stato molto chiaro con un'anguria ancora più bravo nel Pignano, non era facile, poi magari questa anguria Monica Cillo ce la dividiamo e con questo caldo una fetta fa sempre piacere. Criscione, brevemente la prego, i titoli di Stato, cosa garantiscono queste forme di investimento? Il titolo di Stato è un investimento, come diceva prima l'avvocato, è un'obbligazione e quindi è un prestito che si fa allo Stato. Chiaramente lo Stato normalmente è più sicuro di un emittente privato e questa cosa se la fa pagare. Normalmente il rendimento sui titoli di Stato è piuttosto basso, quando il rendimento aumenta bisogna sempre considerare che un rendimento che aumenta vuol dire un rischio che aumenta. Quindi adesso i titoli di Stato italiano hanno un rendimento abbastanza interessante, però questo è dovuto anche a una scarsa fiducia che c'è rispetto al titolo di Stato italiano in questo periodo. Quindi bisogna sempre pensare che quando c'è un investimento c'è un rischio e il rendimento, perché spesso ci si lascia attrarre da questa cosa del rendimento, c'è un buon rendimento eccetera e si va lì. Ma anche per le obbligazioni, per i bond eccetera, bisogna sempre stare attenti, questo per le private che spesso per esempio è vero che ti danno una scedola alcune, una scedola periodica, però bisogna stare attenti che spesso la scedola non sono gli interessi ma è una quota del capitale che viene rimborsata anticipatamente e quindi che diventa praticamente uno pensa che sta percependo un interesse e invece è il capitale che gli dita. Quello che dice il giornalista è un ottimo indicatore, cioè maggiore il rendimento più il rischio, però purtroppo non sempre è così come ha dimostrato tutta la questione delle banche, dove il rendimento delle obbligazioni, il tasso di interesse era piuttosto basso perché le banche lo vendivano come sicuro, invece non era così. Quindi anche se c'è un basso rendimento controllate sempre i vostri investimenti. Senti bisogna, già che ci sono te lo chiedo, anche bisogna considerare la tassazione sulle forme di investimento perché poi qualcuno guadagna qualche soldino ma poi ci sono le tasse che incumono. Sì, ci sono anche le tasse da pagare, diciamo che la grande suddivisione tra i titoli di Stato, i titoli delle regioni, i titoli degli enti, i pubblici vengono normalmente tassati al 12,5% mentre azioni, obbligazioni, interessi vengono tassate con una liquida del 26%, si tassa o l'interesse che io percepisco periodicamente oppure si tassa, scusate la parola in inglese, poi la dico in italiano, il cosiddetto capital gain, cioè la plus valenza tra quanto acquistato e quanto venduto. Quello viene tassato, operazioni, obbligazioni, fondi di investimento, al 26%. Nonostante la prudenza, a volte impegnare un piccolo capitale può riservare brutte sorprese. Sentiamo questa testimonianza. Buongiorno a tutti, mi manderei tre. Sono Paolo. Nel lontano, 1987, mio papà acquistò un buono fruttifero postale serie Q. Recentemente mi sono recato per riscattarlo, ma ho avuto una brutta sorpresa, in quanto le poste mi vogliono liquidare una cifra all'incirca 10% inferiore di quella da me calcolata. Spero mi possiate dare qualche buon consiglio, vi ringrazio e vi saluto. Allora, certamente il buon consiglio lo darà tra poco Monica Cirillo. I buoni fruttiferi, se vi ricordate, erano il tipico investimento dei nostri nonni che pensavano all'avvenire dei loro figli e dei loro nipoti. Cosa possiamo rispondere a Paolo? Allora, perché è un buono acquistato nell'87? Probabilmente il signore ha fatto il calcolo sulla tabella posta a tergo del buono postale. Deve verificare che non è stato apposto un nuovo timico che riporta i nuovi tassi di interesse che sono stati statuiti da un decreto del 1986. Perché se così è, se non c'è il timbro, lui ha diritto a ricevere le somme così come si portate nel titolo. Questa è una sentenza, è uscito sul punto, una sentenza della Cassazione. Quindi deve fare questo controllo. Vediamo un altro messaggio che ci arriva questa volta sul nostro canale Whatsapp. Ho pagato per cinque anni un'assicurazione per un totale di 5.000 euro, alla scadenza o riscosso 4.300 euro, meno di quanto ho versato. Mi sento preso in giro. Poi parliamo della fiducia degli italiani. Perché riteniamo sul conto corrente. Che rispondiamo Monica? Rispondiamo che purtroppo spesso quando in passato hanno venduto le assicurazioni dicevano che il capitale è garantito. In realtà non è così perché ci sono vari tipi di assicurazioni, ci sono i costi della polizza assicurativa. Quindi quando stipulate un'assicurazione verificate sempre che cos'è garantito. Leggete purtroppo le condizioni di polizza. Se non avete il tempo, se non ci sono termini abbastanza tecnici, rivolgetevi anche a un'associazione di consumatori che vi possa indirizzare nell'investimento. Ha ragione Monica Cirillo. La parola garantito è interpretabile, avvocato Melpignano. Sì, magari dovremmo aggiungersi un'altra cosa. Da chi? Esatto, questa è una bella risposta. È arrivato un altro messaggio sul nostro canale Whatsapp, un'altra video segnalazione da Mauro della provincia di Varese. Vediamo. Buongiorno, sono Mauro della provincia di Varese. Nel 2018 mi è scaduta una polizza vita di 25 anni e ho avuto una brutta sorpresa. Intanto nel 2009 volevo chiudere l'assicurazione ma mi dissero che ci perdevo 2500 euro. Allora chiesi un anticipo di 10.000 euro. Poi nel 2017 chiesi un altro anticipo di 12.000 euro. Vedendo che loro li chiamavano prestiti nei documenti non mi hanno mai informato della sconvenienza di fare questa cosa. Poi l'anno scorso alla sua naturale scadenza, credendo di incassare 1500 euro circa, mi informarono che dovevo dare a loro 2700 euro. Questo è il messaggio di Mauro. Anche lì le polizze assicurative sono investimenti sicuri, però poi non si rivelano all'altezza delle aspettative. No, ma neanche le polizze assicurative sono investimenti sicuri, perché spesso le polizze assicurative hanno come sottostanti azioni e obbligazioni. Quindi io investendo nelle polizze assicurative non è detto che poi alla fine del periodo riesca a recuperare il mio capitale. E qui c'è ancora una cosa ancora più grave, una mancata comunicazione informativa. Il signore aveva richiesto un parziale riscatto della polizia e gli hanno fatto stipulare un prestito. Quindi l'assicurazione ha preso i soldi del signore che li ha investiti, ci ha guadagnato con i costi, poi ha prefatto un prestito e ci ha guadagnato con gli interessi. Per cui alla fine, lui non solo non ha investito e alla fine non si è trovato nulla, ma si è trovato anche debitore. Allora, attenzione, ecco, e pare brutto dirlo, non vi fidate assolutamente, leggete sempre i contratti, in caso di dubbio rivolgetevi all'associazione dei consumatori. Questo è il motivo, quella domanda che tu mi hai fatto prima, perché le persone hanno i soldi sui conti correnti. Oppure a Mi Manda Rai 3, che è sempre al vostro servizio, vediamo un altro messaggio che arriva sul nostro canale Whatsapp. La mia banca, qualche anno fa, mi ha chiesto di investire i miei soldi. Ho investito 10.000 euro, dopo un anno li ho ripresi e me ne hanno ridati 9.990. Sono 10 centesimi, ma giustamente bastano a far dire a questo telespettatore altro che guadagnarci. Ci ho perso, Avvocato Perpignano. Beh, intanto è uno preciso, no? Esatto. Andrebbe però capito su che cosa la banca glieli ha investiti. Certo, noi vorrevo aggiungere una cosa su quello che vi ho detto prima. Nel momento in cui i soldi escono dal nostro portafoglio, noi stiamo correndo un rischio. Quindi non crediamo alla favola dell'investimento a rischio zero. L'investimento in sé comporta un rischio. Contiene un rischio. Vi faccio vedere questo articolo dal Corriere della Sera. Fisco, controlli sui conti correnti con il risparmiometro. Ormai abbiamo tutte parole con la desinenza inometro, redditometro, spesometro. Questo che cos'è, Avvocato Perpignano? Allora, intanto non mi piace molto la parola, se posso dirlo. Perché sembra quasi che vogliano dare la caccia ai nostri risparmi. Non è così. Nella sostanza è l'ultimo nato di questi vari ometro, eccetera, che ci terrorizza, non ci fa dormire la notte come tutti gli ultimi nati. E' un software, un algoritmo, meglio ancora, insomma una cosa che ci controlla. E a che cosa servirà? Servirà a controllare se i soldi che noi abbiamo sul conto corrente o anche su altri depositi sono coerenti con il nostro stile di vita. Se guadagno 1.500 euro e ne spendo 2.000 al mese, magari quei 500 in più vengono da qualche altra parte non dichiarata. O immaginiamo che io abbia 20.000 euro, 30.000 euro sul mio conto corrente, guadagno sempre 1.500 euro, ma da lì non tocco nulla. Come pago l'affitto, le bollette, la luce, il gas? E' evidente che ho altre entrate che non dichiaro. I controlli riguarderanno solo alcune categorie o tutti i correntisti? Eh no, i controlli riguarderanno tutti le società e anche noi consumatori. Quindi ovviamente siamo tutti sotto la lente di ingrandimento di questo risparmiometro. Va bene, insomma torneremo sull'argomento. Ringrazio per il momento Monica Cirillo, capitato Massimo Maitignano, il collega Cristiano.